Salve a tutti, mi chiamo Giovanni Donadelli, faccio parte del team di persone che ha lavorato all'elaborazione e alla costituzione di questo nuovo museo che si trova a Padova, il Museo di Geografia. È un museo che nasce per valorizzare il patrimonio che è stato accumulato in oltre 150 anni di storia della geografia, della didattica della geografia qui a Padova. È un tesoro unico perché unisce quelle che sono le due anime della geografia fisica e della geografia umana e cerca di raccontarle attraverso tantissime attività e eventi per tutti i target proprio qui a Palazzo Vollo in Borgendia del Santo 26. Il museo verrà inaugurato nella prossima primavera e qui il visitatore potrà mettere in discussione quella che è l'immagine che ha della geografia, quelle che sono le proprie esperienze della geografia attraverso un viaggio, un percorso che lo porterà a confrontarsi con un patrimonio storico, antico, di pregio, un patrimonio unico in Italia che vuole però, contiene un messaggio e vuole quindi entrare in relazione con ciascuno di noi proprio per sviluppare sguardi e mondi nuovi possibili e migliori. Quindi vi do appuntamento alla prossima primavera qui al Museo di Geografia e per ora è tutto. Grazie a tutti!